Chi per te a questo punto diventa la favorita per la promozione? Non posso che dire occhio a questo Lecco che forse, così come nella sfida, nel doppio confronto col Portenone, partiva da underdog. Il Lecco all'inizio del campionato è partito per salvarsi. Quando ho visto che la squadra era in difficoltà ha preso questo allenatore, che è un po' un allenatore schierato con la società, che non entra mai in polemica, non fa mai, quindi schierato abbastanza, chiede i giocatori che vuole, poi ha rimodellato la squadra con quello che aveva, con il materiale e i giocatori che aveva, e arrivare a questo punto, sabato scorso si diceva, ormai si esce col Portenone, ma non al termine, all'inizio della sfida. Il Cesena ha un vantaggio sia per la semifinale che per la finale, che è quello di giocare la gara di ritorno in casa, seppur però con l'Oroge Stadium, Dino Manuzzi, che negli ultimi anni è stata una persecuzione per il Cesena, nelle gare decisive, le eliminazioni ai play-off, sono arrivate tutte nello stadio di casa. Confermo l'endorsement al Cesena, sia come Rosa, che come giustamente hai detto, per un allenatore che ha un'esperienza di promozioni che pochi possono vantare. Mi ha sorpreso soprattutto la solidità difensiva del Cesena, non ho mai avuto l'impressione che il Vicenza potesse realmente impensierire la squadra romagnola, se non con qualche azione estemporanea, come quelle che hanno portato al doppio palo nelle due sfide. Mi ha sorpreso il Cesena perché credo che a questo punto sia una squadra che è uscita fuori, ha recuperato dalla quota di aver non vinto il campionato, ha avuto tempo ed è molto quadrato. La forma fisica in questo momento sembra davvero essere un valore aggiunto, un fattore, perché da Picerno in poi, cioè dall'ultima giornata della stagione regolare, e nei secondi tempi i biancazzurri crescono e le avversarie o gli avversari sembrano invece arrancare. Credo, così come Massimo, che in questo momento la condizione fisica possa essere davvero determinante perché il Foggia è in una condizione fisica drammatica, ha fuori Carattoni, ha fuori Ogunseie, avrà fuori probabilmente Beretta, ha a mezzo servizio Vacca di Pasquale, dovremo valutare le condizioni di Peterman che è uscito ieri anzitempo, però tutto questo va a cozzare poi con un entusiasmo che in questo momento è palpabile.